E ciao a tutti amici sono il vostro caro Dexter e oggi siamo tornati qui finalmente con tutta l'Illuminati Crew Per una nuova challenge sul calcio e siccome vi ricordate la patata al su, la mazza cicale, la mossa di karate Oggi vi riproporremmo la crossbar challenge ma One touch crossbar challenge Ero la crossbar challenge al volo quindi ancora più estrema, ancora più pericolosa Giampire Eh tanto io non la prendo normale, pensa al volo Ma perché siamo tutti qui riuniti? Perché volevamo darvi un'info importante Marzo, 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 marzo Che cos'è marzo? Precisamente il 14 marzo, segnatevi questa data sui vostri calendari Mamma mia Perché il 14 marzo uscirà il nostro manuale Come diventare ricchi con YouTube Un manuale ironico, autoironico E cazzone Questo è già il titolo ragazzi, è cazzone E ovviamente divertente Lo trovate in tutte le librerie e anche Online E anche online su Amazon Soprattutto questo libro, questo manuale ci darà la possibilità di riniziare il noi da voi Quindi dal 14 marzo tenetevi aggiornati perché vi diremo su tutti i social le date Perché noi verremo nella vostra città In tutte le vostre città Tutta la Illuminati Crew Bravo Dexter, bravo E inoltre un'altra grande notizia Attenzione Da oggi inizia la settimana illuminata Ovvero tutti i giorni per questa settimana troverete una challenge sul calcio Su tutti I calci Ma adesso siamo pronti a prendere la traversa No, no, no Ragazzi, è bello il libro Sono belle le challenge Ma se questo video Attenzione No Mike, che fia Raggiungerà Tianti forte Ottimo, eh Tianti forte 200.000 mi piace E farvi una dura Sono tanti ragazzi, sono tanti Vi sfido, vi sfido 200.000 mi piace E Dexter L'abbiamo deciso insieme Dexter si farà No, i capelli più o meno La boccia Cosa? Pronti per la crossbar challenge al volo Quanta scena È il vostro caro Dexter E oggi prenderò la traversa Chiudete Il king Delle crossbar challenge Ciao ragazzi, sono Stormy Vabbè, avete una cazzata Dormi Dormi Popolari Ciao ragazzi, sono un bel razzo Crew Adesso prenderò Primo tiro Che schifo Se ce la fa Dexter Non sembra così difficile Penso Per cacare Oh No Vengono Sì ragazzi, sono Mike Shosha La fortuna per le traverse È stata tutta utilizzata Quindi adesso scopriamo Che farò Oh Ragazzi, sono Murray Quello con i piedi Un po' montati al contrario Oh, fucilati Pronto Vai Ready Fire No È finito Ciao ragazzi Ciao ragazzi Già la palla non vuole stare manco con me Quindi pensate un po' cosa riuscire da questo video Non la prenderò mai Al solito Adesso Adesso Le brazze Vai 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 Sto amoreggemmo la mano Vai Dietro lato Prendi Mezzo a cuiriggianti Porca La presa Nooo Ciao a tutti Sono Camper Quello cattivo E mi son fatto 4 ore di treno Solo per registrare questo video Primo tiro Mezzo punto Vale qualcosina Non puoi fare sempre bene Secondo tiro Adesso ci credo Vai Di piatto Di piatto Di piatto Di piatto Cazzo ho detto del piatto Mi sono immaginato un piatto Con le patate al su Secondo tiro No che schifo No che schifo Ma che schifo Non mi credeva Ragazzi sotto nei commenti Disgusting spawn No che schifo Vai Max Josh C'ha la carabina nei tuoi piedi Un po' fucilati Però cresci Secondo tiro I am the one Kill Assume 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 Oh oh Ma che esta roba Ma che cacchietta Ma che cacchietta Ma devi saltare åh Di lato Di lato Ooooo 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 Jumpy Tech ha delle regole Tutte sue Quindi noi le diamo buone Scrivete nei commenti Se dobbiamo dare una traversa Jumpy V Assolutamente sì Che la fortuna mi assista 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 questo diventa belato per favore la mossa da karate e fa anche il rimo terzo tiro ragazzi visto che sto fallendo miseramente lo farò di mezza rovesciata al volo ragazzi adesso copierò a mezzuccio perché lui ha avuto una dose di culo di quella giusta quindi lui non ce l'ha avuta volevi l'apporto e ultimo tiro se la prendi di nuovo? non lo so non so ha tirato quattro volte questa è una terza si ricarica il video uncut a qualche parte? non ci crede nessuno allora ragazzi in descrizione trovate il video uncut da quando ho iniziato a tirare le sono stanco le traverse l'ho prese veramente tre di seguito si ricarica il video uncut di non è uncut non ci crede nessuno guarda ma manco noi ci crediamo quarto e ultimo tiro benedicimi per favore basta quarto e ultimo tiro oh 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 te maledico non te benedico più basta basta vai brazo oh 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 la faccio che vale doppio no non devi fare il sciato di rovesciata te la faccio oh 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 però aspetta ha avuto le palle ha avuto l'onore gli concedo un ultimo tiro normale tiro normale col verde? cioè proprio vuoi fareggiare questa volta? non mi interessa ha avuto le palle e l'onore di farla me lo so la merita al contrario vostro eh abbattilo abbattilo vabbè no 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 vabbè no 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 l'affortuna una volta sola make sure vabbè come me non frega me raga 200 mila mi piace e la siamo Dexter allora non la siamo noi Dexter certo non la siamo noi no 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 certo non la siamo noi è ovvio che allora siamo noi cioè io pronto la palla gli ha detto che la prende no no è un appucciato è un appucciato l'ultimo tiro alla man man oh 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 no 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 scherchio no 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 non Ci vediamo prestissimo con un nuovo video, vi mandiamo un abbracione, un salutone e ciao gente!